A dieci anni dal sisma la Scuola dell'Aquila racconta gli sforzi fatti da tutti, docenti, dirigenti scolastici, famiglie e studenti per non cedere allo sconvolgimento portato dal terremoto. Scuole e università hanno saputo mantenere in vita le attività didattiche e conservare unite le persone in un contesto di emergenza straordinario. Una rinascita che oggi il sistema scolastico e l'ufficio scolastico regionale hanno raccontato nella sale epogea dell'emiciclo in un convegno al quale ha partecipato anche il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Il convegno rientra nel progetto finanziato dal MIUR dal titolo per una didattica della resilienza formare i docenti per operare in contesti di emergenza. La scuola ebbe infatti un ruolo fondamentale nell'immediato post-sisma assumendo una funzione aggregante per il tessuto sociale. Nel settembre del 2009, ricordiamolo, tutti gli studenti ripresero le loro attività scolastiche e universitarie. Oggi è una giornata importante per tanti aspetti e soprattutto perché dà un senso al lavoro che è stato fatto fino adesso dalle nostre scuole, dai nostri insegnanti, dai nostri dirigenti, a tutto il personale che ha saputo mantenere viva e ha dato forza in un momento veramente disperato, di grande difficoltà, un territorio che merita di essere rilanciato. Ma c'è ancora molto da fare per mettere in sicurezza le strutture scolastiche di tutto il paese. Ha ragione, è quello che noi abbiamo già fatto subito dall'inizio, non solo e lo faremo anche qua, ma in tutta Italia. Abbiamo tanti edifici scolastici che sono privi delle certificazioni, non che siano insicuri, ma che hanno necessità di essere certificati secondo la norma di legge per quanto riguarda la sicurezza, quindi certificato di protezione di incendi, dichiarazione e valutazione rischi in piante elettrici. Noi abbiamo già stanziato tanti fondi, 7 miliardi, ne stanzieremo altri che attraverso conferenze unificate avranno la possibilità di arrivare velocemente in fretta agli enti proprietari degli edifici proprio per ovviare a questo problema. Il convegno è stato preceduto dalla presentazione della Pieta del Ricordo, progettata dal liceo artistico Muzzi nel polo scolastico di Colle Sapone, in ricordo degli studenti, dei docenti e del personale scolastico vittime del terremoto.